Ora è 21.30, Piazzale Cuoco alla guizza si trasforma in un ring, un gruppetto di ragazzi comincia ad urlare, parolacce e insulti volano bottiglie, si rincorrono in mezzo alla strada strappando cestini delle immondizie per cercare qualcosa da lanciarsi contro. È la vigilia di Ferragosto a Padova, la scena viene ripresa da una residente che spaventata chiama subito la polizia, ho avuto paura ci racconta al telefono, preferisce rimanere anonima perché la preoccupazione è tanta, non ho mai visto scene di questo tipo, le urla riecheggiavano in strada, a terra c'era un tappeto di vetri pericolosissimi se ci passano bambini anziani dice. E a terra nonostante la polizia immediata del piazzale rimangono ancora qualche frammento di bottiglia di birra rotta. I ragazzi sembravano molto giovani, parlavano con un accento straniero, urlavano solo parolacce, ignoti i motivi della lite furibonda. Anche il presidente della consulta di quartiere 4 Sud-Est mercoledì sera stava passando da piazzale Cuoco proprio nei momenti della rissa. Ho visto anche persone sicuramente maggiorenni e si sono per motivi futili attaccati lanciandosi anche delle bottiglie e spaventando giustamente anche i residenti. Devo anche dire che questo è un episodio veramente occasionale per questa zona qua, le forze dell'ordine sono intervenute subito. Un evento imprevedibile occasionale, dice Sanco, che però ha già riferito l'accaduto all'amministrazione comunale. Ovviamente sono cose che non devono succedere. Sulle risposte che possiamo dare come territorio, come consulta, comunque è un'attenzione particolare, l'abbiamo già chiesta all'amministrazione che ha sempre avuto comunque una particolare attenzione a questi episodi. Altre risposte come territorio nel presidio cerchiamo di darle e ho chiesto anche agli assessorati competenti se possono darci una mano anche per presidiare un po' più attentamente il territorio, anche facendo azioni proprio di presenza, anche con spettacoli e con attività nel territorio, per evitare che poi succedano questi momenti di degrado. Sul posto la polizia ha cercato di identificare alcuni dei ragazzi, altri invece si sono dileguati. Le indagini proseguono per chiarire l'accaduto.